I tempi si sa sono quelli che sono, la crisi economica incombe ed allora nella prospettiva delle festività di Pasqua forse la via più economica per dare un pensierino di augurio anziché del solito vito di cioccolato che poi sembra di essere diventato un ovone di cioccolato perché è sempre più costoso, non dimenticate che l'ebook è la via più facile e più semplice e non dimenticare che attraverso ebooksitalia.com regalare un ebook è facile e potete fare dei regali molto simpatici, molto personalizzati, molto carini spendendo da 99 centesimi di euro in su A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!